Ho usato un termine, scandalo, che fa venire alla mente proprio l'etimologia della parola e induce ad una riflessione. Lo scandalo porta in effezza una situazione e fa scattare delle reazioni. E la reazione c'è stata, è una reazione di dolore per chi vede un presidio di legalità intaccato ma nello stesso tempo una reazione forte ed una grande fiducia dovrebbe scattare nei cittadini perché il far emergere una situazione costituisce anche opportunità di rinnovamento, di rafforzamento e di miglioramento. La magistratura farà il suo corso, l'arma darà le risposte a dato, le risposte che ha ritenuto di dare, sul piano del coordinamento e della prevenzione, noi saremo una squadra. Come è stato il primo impatto con questa città? Un impatto estremamente gradevole. Io sono arrivata di sera, questo adesso come chiosa un po' di sera. Ho fatto una passeggiata per le vie del centro e sicuramente una realtà molto bella, ricca di storia, di grandi tradizioni. Cosa dire, sono contenta. La mia prima sede mi vede onorata e nello stesso tempo mi porta ad avere un grande impegno, un grande rispetto per chi ha sofferto e un grande rispetto per l'amministrazione che ha puntato su di me per questa provincia, quindi le comprende. Mi sono sentita un po' come un primo giorno di scuola, va, con la consapevolezza però di avere tutta altra età e di dover dare delle risposte estremamente più complesse e quindi per me che lavoro per obiettivi, per fatti, ecco, di cedere adesso il posto al fare.